Segue a Novi Ligure la festa dell'acqua, dell'ambiente della solidarietà promossa da ACOS e gestione acqua, in particolare con la festa del benessere. Il tema ha visto un convegno dal titolo Prevenire è meglio che curare, strategie di lotta contro il cancro. Relatore il dottor Giancarlo Faragli, specialista in medicina preventiva. Si è parlato poi dell'importanza di fare sport con Stefano Storti, esperto in fitness e wellness, ed ancora nel corso della giornata di filosofia orientale e massaggi. Un altro momento di dibattito ha poi avuto il titolo di Il progetto Benessere Globale Gaia, curato dalla neuropata Nevin Attraverso. Benessere è un progetto che nasce in seno all'assessorato alla cultura nel 2014, con lo scopo di affrontare una complessa relazione, quella tra cultura e benessere appunto. Si tratta di aspetti fondamentali della vita di ognuno di noi, salute, qualità, prevenzione e formazione. Da due anni, a questa parte, grazie alla collaborazione di esperti professionisti, il Comune sta organizzando periodicamente appuntamenti di approfondimento su questi temi. Una giornata sulla cultura del benessere, che noi già da anni, dal 2014, promuoviamo. E oggi è un pochino la giornata piena, con tutte le conferenze dei vari argomenti, che vanno dalla conferenza medica sulla prevenzione oncologica, alla conferenza sul cranio sacrale, alla conferenza sulla naturopatia, i fiori di Bach. Praticamente spaziamo dall'Occidente all'Oriente, come abbiamo sempre fatto. È un progetto a cui crediamo molto, ed è un progetto che ha molta adesione da parte del pubblico. È una festa per la quale ringraziamo ACOS, il Disability Manager del Comune di Novi Ligure. È una festa perché siamo in un contesto bellissimo, al Parco di Bettole, a festeggiare un binomio che sta diventando di successo, quello tra cultura e benessere. Questo vuol dire che l'amministrazione comunale si occupa anche della salute dei cittadini, della prevenzione e della qualità della vita. Tutti i temi importanti su cui abbiamo avviato una serie di riflessioni teoriche, ma che abbiamo anche voluto portare tra la gente con una serie di esperienze pratiche. Per noi è un progetto che è partito nel 2014, un progetto pilota in cui crediamo molto. La giornata di oggi è un po' il punto di arrivo, il traguardo di questa esperienza. E siamo particolarmente soddisfatti della partnership tra Comune e ACOS, che ci ha consentito di essere in un contesto naturale e bellissimo, che fa parte del patrimonio della città.